...sessione perfetta, fuoco! Uh, siamo a quattro! Base qui è V1, i tre migrimatti ce la sono battuta! Siamo fatta! Base, qui è Maverick, chiedo autorizzazione per un passaggio radente! Negativo, autorizzazione non concessa! Scusa, potrei sapere anch'io che cosa sta succedendo! Grazie! Maledetto bastardo! Senti, ragazzi... Continui a essere pericoloso Ti concedo di essere il mio aereo d'appoggio Balle, sarai tu il mio Grazie a tutti Maverick Signore Come ci si sente ad essere su tutte le prime pagine dei giornali occidentali? Anche se l'altra parte nega l'accaduto Congratulazioni Grazie, signore Hai la possibilità di scegliere dove prestare servizio, ovunque, qualsiasi cosa Allora, dove vuoi andare? Avrei pensato di diventare istruttore, signore Top Gun? Sì, signore Che Dio ci aiuti Ah 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 Grazie.